Covid fuori dall'emergenza. Il virus ovviamente non si è polverizzato, non è sparito, ma la fase della convivenza sta funzionando e nonostante dal primo aprile siano state dismesse diverse limitazioni, oggi possiamo dire che siano in netto calo i contagi. Se domenica nel Vicentino erano 910 nuovi casi, oggi sono soltanto 371 per un totale di 13.081 contagiati in tutta la provincia, 20 in meno di ieri. 41 i ricoverati al San Bortolo, di cui 39 in area non critica. 13 invece i pazienti Covid all'ospedale di Sant'Orso, di cui solo uno resta in terapia intensiva. Insomma ad oggi sul totale dei positivi nel Vicentino è ricoverato lo 0,4% e solo lo 0,02% in area critica. Il virus non fa più male come in passato e anche i decessi nell'ultimo bollettino sono azzerati. Più in generale considerando tutto il Veneto sono 18 i nuovi ricoverati, tutti in area non critica, mentre le terapie intensive sono in fase di svuotamento con meno due pazienti nelle ultime 24 ore.